Lo stavate aspettando, eh? Per questo video arriviamo almeno a 15.000 mi piace E sotto nei commenti, mi raccomando, consigliateci altre cose da fare con le ragazze sempre alle fiere O chissà, anche in altre zone Fate voi qua sotto nei commenti E mi raccomando, nel frattempo è uscito anche un video sul canale di Yom Non perdetevelo sempre in ambito fregna Godetevi tutto il video Buona visione Ma perché? Ti ho sempre amato Allora ragazzi siamo qui con... Ilaria Ilaria, incredibile Come ti chiami allora Ilaria? Bellissimo nome Grazie Tu come ti chiami? Andrea Bel nome? Sì, sì, sì Grazie Allora tu quanti anni hai? Io ne ho 16 Bene, anch'io Vabbè Perché non ci credi? Ok Ragazzi cercheremo di sposare una fidanzata Mi concedi un'intervista a lei? Ok Possibile? Sì Ok Tu hai fidanzato sei? Sì Ok, molto bene Quali sono i tuoi hobby? Recitare Guardare il computer Recitare? Sì Lo sai che io in questo momento sto recitando? Sì Quindi già abbiamo trovato una cosa che ci accomuna Ahà Ok Di che segno sei? Pesci Quando sei nata? Primo marzo Il 2? Sì No, io e il 2? Ah Di aprile No, il 2 marzo Grandissimo Cioè abbiamo trovato tutte queste cose che ci accomunano, no? Puoi mantenerti nel telefono? Sì Sì Vuoi sposarmi? Ehm Vuoi sposarmi di preghetto? Sì Sì Quindi adesso il bacio Ok, grazie Ma il bacio? No No, noi ci sposiamo Ma che puoi fare con questo? Ci posso, mi piace Tu come mi vuoi sposarmi non mi vuoi dar il bacio? No No, perciò, perciò Sconcancia Sono un po' vinta C'è una volontaria Quando sei nata? Come ti chiami? Francesca Furio Francesco mi chiamo Dici sì o no? Se gli dico di sì ti arrabbi Vabbè Se gli dico di no ti offenti Dai sì Cura Allora senti questa Vuoi tornare a casa a piedi? Quindi vi chiamate? Francesco E io Francesco E questo Di che segno siete? No, no, un attimo Di che segno siamo? Io sono andata il 14 febbraio Il giorno più domandico dell'anno Tesoro 14? Febbraio Il giorno domandico 15 febbraio Sì, ma io qualche anno ho più di te Quanti anni avete? 39 compiuti da 9 anni Vabbè, oh, ne ho 30 Ne ho 30 Più o meno siamo lì Quanto tutto può essere mio figlio Tesoro Quindi non ci possiamo sposare? A me piace il Toy Boy Abbiamo un tradimento in live Facciamo i conti dopo E allora ci dobbiamo baciare Ammazza No, no, no Come ti chiami? Eva Eva è Adamo No Tristamente Quanti anni hai? 20 20 anni Quindi di che segno di zone Quale sei? Quando sei nata? Bilancia Il 6 ottobre 6 ottobre? Sì Indomina un po' quanto sono nata io 5 8 ottobre 8 ottobre 8 ottobre, lo giuro Incredibile Di che zona sei? Sei di Torino prima di tutto? Sì Anch'io? Abbiamo tante cose in comune Quindi ti concedo questo telefono Sì Io ti faccio una proposta Eh, dimmi Tu devi rispondere sì o no Quale? Vuoi sposare? Devo proprio? Sì, vuoi Devi dire sì o no Vabbè, dai, sì Sì, quindi un bacio Il bacio del fidanzamento Vabbè, sono baci No Eh no, scusa Non ci sposiamo Ciao che benedizione Guarda Vieni In senso Vieni 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 Quindi mi volete sposare? Assolutamente Allora mi dovete dare il bacio Comunque volevo avvisarla signora che verrà denunciata perché io ho 15 anni Benissimo Andiamo in galera insieme Sì, andiamo insieme Dai Ti vediamo questa sera Ciao, ciao Ciao Siamo qui con? Olga Olga Bellissimo nome Grazie Di che segno sei? Ariete Ariete, quindi Quando sei nata? A marzo Che giorno? Il 29 Davvero? Sì 28 sono nato Te lo giuro Incredibile Ha detto sì alla mia proposta Ha detto sì Proposta di cosa? Di matrimoni? Di matrimoni? Di lanciamento Di lanciamento Però non mi volete dare il bacio Perché non mi volete dare il bacio? Fallo per Gesù Ehi, guarda Guarda Questa è la mia espressione Se non dai bacio Lui ti ha creato E lui ti distrugge Dagli il bacio Se non mi dai il bacio Vabbè, dai uno Oh, applauso! Bravo, fratello, bravo E quali sono i tuoi hobby? Hobby? I tuoi hobby? Cosa fai nella vita? Studi Sì, a parte quello Faccio danza Mi piace ballavolo Vabbè, dai Quindi di che zona sei? Di Torino Torino, che zona precisamente? Massawa Dove? Massawa Ma siamo poco vicini Siamo adesso lì più o meno Cinque minuti arrivo lì Un'informazione L'area ristoro Dove la trovo? Sai tu No Se non sbaglio devi cambiare la diione Ok, grazie Grazie E quindi, visto che abbiamo tutte queste cose in comune Tu sei nata il 29 marzo Io il 28 marzo Devi mantenere un attimo sto telefono No Mi fai paura Mi fai paura? Perché? Non lo so Io non mi fido degli youtuber Mi vuoi sposare? Ma che cazzo? No No, mi dispiace Come no? No Ti prego? No Perché no? No Come non mi vuoi sposare? Perché ragazzi non mi vuole sposare? Ma è pedofilia questa Quale mi devo finire? Quanti anni hai? 16 16 anni? Sì Ok, allora facciamo un gioco Allora, come mi chiamate? Maya Maya? Maya? Sì Federica Mi chiamo Federico Allora, in pratica dobbiamo fare un gioco Dove voi a coppia dovete indovinare la mia età Che vi dico che dai 15 ai 21 anni Se sbagliate mi date un bacio a stampa tutte e due Se invece vincete mi date tutti e due uno scherzo Ci state? Un turno a testa, va bene? E' una manovra 19 19 Tu? Prima tentativa è andato a? A stare 20 Sbagliato Quanti anni avete? Siamo 2002 noi Tu? A 22 Vabbè quindi ci sta dai Faccia stare Oppure oltre Può avere l'aiuto da casa? Allora prendo l'aiuto Dai quindi c'è 18 anni A un tentativo Vabbè 18 18 anni ragazzi quindi 28 maggio 2001 Ma che cazzo? Questo sono io Non è possibile Sono io questo Non è vero Non è possibile? No dai Dai un bacio a stampa dai Dai Ce l'abbiamo fatta dai Un saluto Il 29 marzo Ti faremo tutti quanti gli auguri Va bene? Ok Comunque io non sono andato il 28 marzo Ce l'abbiamo fatta Quindi ciao a Mia Maia E Federica Federica è il mio nome Federico Quindi sposiamo lei ragazzi Certo Vuoi sposare? Vuoi sposare Ti cura? No Come no? Hai detto si poi hai detto no Ok Quindi mi vuoi sposare? Va bene Quindi un altro bacio No basta No ti devo mettere l'anello almeno Non tremare Grazie Non se ne pensi Di cosa? Mi sono sposato Bellissimo Quindi mi devi un altro bacio Dai 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 Mi hai sposato Ce l'abbiamo fatta Ciao Federica Un bacio a Chi fa? Anche a loro L'anello è preso L'anello Non ti ho sposato veramente Eh m***a M***a ti ho sposato veramente